Presentiamo ora Aria sulla quarta corda Musica di Johann Sebastian Bach È il titolo con il quale riferito il secondo movimento della terza suite di Re Maggiore per orchestra di Johann Sebastian Bach Questa famosissima Aria, detta sulla quarta corda, si compone di due sezioni ritornellate secondo uno schema tipico di quel territorio Nella prima sezione troviamo la prima parte del tema formato da tre frasi per un totale di dodici battute Nella seconda sezione abbiamo la seconda parte del tema che consiste in sei frasi, quindi più lunga e con maggiore varietà ritmico e logica Questa sera il corpo bandistico Città di Lenninara eseguirà questa versione per banda arrangiata da Hoffman Aria sulla quarta corda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti